È stato un pareggio abbastanza giusto? Giusto tra virgolette, perché la partita fino a 10 minuti dalla fine la tenavamo in mano noi, giocavamo noi, cerchavamo di fare gol in tutte le maniere. Nel primo tempo abbiamo avuto occasioni importanti, ma anche nel secondo. È rammarico che la squadra come la nostra, quando ti capita un'occasione, dobbiamo fare gol. Nonostante il campetto piccolo, nonostante loro sono una buona squadra, abbiamo giocato, abbiamo cercato di fare. Di questo ne sono contento. Sono arrabbiato agli ultimi 7-8 minuti, dove noi ci siamo allungati cercando di vincere a tutti i costi. Abbiamo concesso dei contropiedi e delle punizioni dovevamo evitare, perché poi alla fine prendere punizione e prendere gol dispiaceva perdere in una partita dove meritavamo sicuramente qualcosina di più noi. A quel punto si erano allungate le squadre, quindi poteva starci qualche, tra virgolette, concedere qualche ripartenza? A noi non deve succedere, perché la squadra è allenata, ha dei concetti, non ci dobbiamo far prendere dalla partita, dobbiamo avere sempre un equilibrio importante, non dobbiamo andare con le mezzali e non rientrare più, lasciare la linea difensiva solo con il mediano, ma allungarsi di 60-70 metri non esiste. Poteva succedere una volta, poi dovevamo essere bravi a rimetterci subito a posto, invece abbiamo continuato ad attaccare e a difenderci e potevi perdere la partita. Nell'arco della partita, fino all'85, la mia squadra ha cercato di giocare, ha cercato di fare cose importanti, in questo momento manchiamo negli ultimi 20 metri dove dobbiamo essere un pochettino più cattivi e un po' cinici.